Sangue pallido? Beh, arrivi nel posto giusto. Yharnam è la casa dell'infusione del sangue. Devi soltanto svelare il suo mistero. Ma da dove dovrebbe cominciare uno straniero come te? Semplice. D'avere un po' di sangue di Yharnam nel proprio. Ma prima ci servirà un contratto. Caro amico, fa' attenzione. Il sangue è corrotto. E quando cala la notte, i cacciatori ritornano. Molto tempo fa, tutta Yharnam fu devastata dalla piaga delle bestie e lasciata amarcire e decadere. E ora le uniche voci che si ascoltano là sono gli ovulati delle bestie. Il sangue ci rende umani. Ci rende più che umani. Ci rende umani, non più. Qualunque cosa accada, potrai sempre pensare che si tratta solo di un brutto sogno. Il sangue ci rende umani.